adesso è diventato rosso ora stai filmato ora stiamo filmando io ripetere la battuta e direi che stai filmato perchè è la canina Alex90 presenta Arzano ma si chiama Arzano? Arzano, autore eaforia 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 Michele Uzzinger non può presentare perchè è scesa abbiamo voluto ascendere a San Giorgio a Crema aveva impegno aveva un impegno aveva un impegno non mi ricordo un altro ma anche una strofetta un verso una cosa ma cosa? non tante e quattro strof sicuramente così mi metti ricordati a prima carriera un po' di eaforia mi ti è bloccato in gula eaforia eaforia se fa Arza non devo fare neomenotico Arzano vele al Trapunto Sorrento si vergogna al tuo confronto eccetera eccetera che aiuto grande Alex un applauso ad Alex un applauso ad Alex puoi fermare